Avrete sentito parlare di Firewall, o magari vi sarete imbattuti in questa parola perché vi è uscito un avviso di Windows che il Firewall ha bloccato qualche azione da parte di un software. In questo video cerchiamo di capire meglio la logica dietro a questo strumento di protezione informatica, come funziona, da cosa ci protegge e al contrario da cosa non ci protegge. Prima di iniziare vi ricordo che potete navigare questo video anche utilizzando i vari capitoli qui sotto, quindi se sapete già qualcosa, magari volete saltare a un capitolo successivo per trovare un pezzo più interessante per voi, potete farlo velocemente. Prima di continuare voglio dedicare pochi secondi allo sponsor di questo video. Ti chiedo gentilmente di dare un'occhiata al link che lascio qui sotto in descrizione, è un piccolo gesto che supporta le tante ore necessarie per continuare a realizzare e caricare video su questo canale. Lo sponsor di oggi è NordVPN, un ottimo VPN che permette di navigare sicuri, accedere a prezzi su prodotti e servizi più bassi, accedere ai cataloghi multimediali e tanto altro. Ma oggi voglio parlarvi di una novità, cioè l'introduzione di Treat Protection, è una funzione che trasforma NordVPN in una vera e propria suite di sicurezza. Offre una protezione anti-malware che blocca file e siti dannosi, blocca i cookie di tracciamento e blocca anche le pubblicità invasive, tipo tutte quelle pop-up che vengono fuori e disturbano pesantemente la navigazione. Inoltre questa funzione, un dettaglio che non è da poco, è inclusa gratuitamente per tutti, quindi prendete la VPN e guadagnate anche questa protezione allargata che funziona in background sempre anche se non state utilizzando la VPN. Qui sotto vi lascio il mio link che potete utilizzare per sottoscrivere un abbonamento super scontato a NordVPN e come sempre, se poi non siete soddisfatti, avete 30 giorni di tempo per ripensarci. Quindi, insomma, vi consiglio di provare anche se fosse solo per testare questa novità, questa promettente funzione di Treat Protection che, ricordo, è inclusa gratuitamente nell'abbonamento. Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato questo video e grazie a tutti voi per il supporto. Un firewall che in, come dire, traduzione letterale sarebbe muro di fuoco, ma in realtà in italiano, nell'uso corrente, non ha una traduzione, quindi continueremo appunto a chiamarlo firewall. Un firewall è uno strumento informatico e per la maggior parte di noi è un software, anche se esistono dei firewall di tipo fisico, cioè dell'hardware, cioè dei componenti fisici da installare, il cui scopo principale è posizionarsi tra internet e il vostro computer di casa e decidere quale tipo di traffico dati può passare o no. Più correttamente, un firewall stabilisce il tipo di traffico che può entrare o anche uscire in realtà dalla vostra rete privata e con rete privata si intende tutto quello che è presente all'interno della vostra casa o del vostro ufficio e connesso sia tramite cavo o tramite connessione wireless. Il fuori dalla rete privata è definito come internet generalmente, ma può fisicamente anche essere considerata qualsiasi altra fonte di dati e comunicazione esterna. Questa definizione è tuttavia forse più corretta per quelle situazioni dove esiste un firewall hardware o comunque un software su un computer da cui transitano i dati di internet prima che vengono trasferiti ad altri dispositivi connessi alla rete. Pensiamo alla classica azienda strutturata, per fare un esempio, dove i vari computer sono collegati certo a internet tramite wifi o rete cablata, ma la porta di ingresso e di uscita delle comunicazioni transitano tutte da un server o comunque da delle macchine preposte al controllo dei dati che vengono scambiati. In altre parole, in queste situazioni non è che vi collegate direttamente al wifi del modem che fornisce la connessione internet, o almeno così non dovrebbe accadere. Il classico firewall a cui tutti noi siamo maggiormente abituati è una soluzione software che agisce a livello di singolo computer, come può essere appunto il firewall di Windows. Un pezzo di software che controlla i dati in entrata e uscita dal computer e, in base a quello che rileva, blocca o permette questa comunicazione. Un firewall è in grado di proteggerci da un sacco di cose, ma è importante capire che il suo approccio è diverso da quello, ad esempio, di un antivirus. Cerchiamo di capirlo in questa maniera. Un antivirus, un antimalware in generale, si occupa principalmente di analizzare i dati che arrivano, che sono già presenti sui nostri computer, analizzano il codice dei singoli file e analizzano le azioni che i singoli file, i singoli software richiedono al computer. Cioè un antivirus è in grado di identificare e arginare un virus, che dopo tutto non è altro che un software che fa delle azioni, in due maniere principali. La prima analizza i dati, analizza i file, li confronta con un archivio che contiene tutti i virus conosciuti e, se trova una corrispondenza, ovviamente blocca quei dati. Il secondo modo è analizzare quello che quei dati, quei file richiedono come azione al computer, ricercando anche delle similitudini con virus già conosciuti. E se trova qualche similitudine o se si trova davanti a una richiesta, un'azione potenzialmente dannosa, come ad esempio la sovrascrittura di una parte della memoria, per dirne una, blocca tutto perché in quella maniera capisce di essere davanti a una potenziale minaccia. Questi due approcci, seppur differenti, hanno a che fare con dei dati che sono arrivati sul computer. Magari sono stati isolati, ma sono arrivati sul computer e il software ha necessità di analizzare questi dati. L'approccio del firewall, invece, più che a livello di analisi dei dati, è a livello di analisi di comportamenti o richieste. Cioè il firewall è quel meccanismo che si posiziona a monte e che controlla, ad esempio, da dove arrivano quei dati. Quando al vostro computer arriva una richiesta di collegamento da un determinato sito web o da un servizio che gli chiede fammi collegare perché devo mandarti dei dati. Ecco che il firewall si mette di mezzo e chiede, si chiede, ma chi è questo server o servizio che mi sta chiedendo di permettergli di collegarsi? Ma che tipologia di collegamento vuole effettuare? Quanti dati vuole inviare? A che servizio del computer? A che porta d'ingresso vuole accedere? Da dove si vuole collegare? Nel tempo sono state create una serie di regole, cioè ad esempio una storicità di server e indirizzi di collegamento, una storicità di modi in cui i servizi chiedono di collegarsi al computer, una storicità di azioni che vengono richieste, che sono state identificate tutte come potenzialmente dannose. E tutte queste informazioni sono raggruppate in una serie di regole che il firewall applica per permettere o meno il verificarsi di quell'azione. Se, sempre con un esempio, un software esterno alla rete o anche un software presente sul computer richiede l'accesso a determinati dati, dati o posizioni di demore importanti o che possono compromettere l'uso del computer, posizioni a cui un software normale non dovrebbe accedere, allora il firewall riconosce un comportamento strano e blocca questo accesso. Quindi questa serie di regole e controlli vengono effettuati per tutte le richieste di scambio e modifica dei dati. E non appena ci si imbatte in qualcosa fuori dal comune, fuori dal normale, il firewall blocca per sicurezza quella comunicazione. Come detto, blocca l'invio di file da dei siti riconosciuti come fonti di attacchi informatici, blocca l'accesso da parte di un software a posizione del computer a cui non dovrebbe richiedere l'accesso, blocca la richiesta di uso di risorse o di porte che solitamente non vengono utilizzate, blocca anche comportamenti strani come ad esempio un invio spropositato di dati continuativo che in quest'ultimo caso si configurerebbe come un comportamento solitamente utilizzato per un attacco di tipo DOS. Blocca l'apertura di porte di comunicazioni che possono rappresentare delle backdoor da cui un malintenzionato potrebbe poi in futuro intrufolarsi. Vedete, tutto quello che fa è analizzare quello che succede e se c'è qualcosa di diverso dalla norma interviene. Potete immaginare il firewall come un portinaio attento, diciamolo così, che appena vede qualcosa di strano nel palazzo interviene e blocca la persona chiedendogli chi è lei e cosa ci fa qui. I firewall software con cui abbiamo a che fare tutti noi, da quello preinstallato su Windows ad altri che possiamo scaricare e installare come software aggiuntivi, sono configurati in maniera tale da fare tutto quello che vi ho detto fino ad ora, seguendo delle regole standard che sono il risultato di appunto tante esperienze e storicità di quello che è successo negli anni. Un esempio su tutti? Se la tal porta di comunicazione del computer non viene usata per lo scambio dati tra i vari servizi più utilizzati al mondo, un firewall tenderà a bloccare la comunicazione se ad un certo punto un software chiede accesso a quella porta di comunicazione mai o poco usata. Ciò porta ad avere una certa sicurezza, ma anche un potenziale problema di funzionamento per alcuni servizi a software perché fanno qualcosa fuori dal normale ma in qualcosa di completamente legittimo. Diciamo che una configurazione base, quindi una configurazione di default, andrà bene per l'utente medio, ma se avete necessità specifiche potreste voler effettuare una configurazione avanzata del firewall. Inoltre un firewall può essere configurato non solo per inserire delle eccezioni, di cui magari avete bisogno per un qualcosa di specifico, ma anche per inserire delle regole personalizzate. Ad esempio se volete utilizzare il firewall per evitare che vostro figlio si colleghi a YouTube a guardare i miei video nel pomeriggio così che possa studiare, potete farlo con una regola specifica. Certo, quello che non dovreste fare è disabilitare completamente il firewall nel momento in cui avete qualche problema con qualche software o servizio. Dovreste piuttosto prendervi qualche minuto di tempo per capire dove è il problema ed effettuare una modifica, una configurazione personalizzata per permettere quell'azione che possa avvenire, quel software che possa funzionare, mantenendo però un buon livello di protezione. Ci sono differenti tipi di firewall che solitamente vengono identificate in base al modo in cui lavorano. Ora facciamo una carrellata veloce con l'intento di dare un'infarinatura generale. Si tratta del firewall più comune. Il suo approccio è analizzare il flusso dei dati, proprio come dicevo prima, per capire da dove arrivano e dove devono andare, il protocollo di comunicazione che usano e quello che vogliono fare. Se uno di questi comportamenti è sospetto, ecco che il trasferimento viene bloccato. Si tratta di un sistema che si posiziona tra il vostro computer e internet fisicamente. Potete immaginarlo come un gemello del vostro computer che riceve tutto il traffico dati, controlla quello che succede e lo fa passare solo quando è sicuro che sia tutto ok. Si tratta di un sistema di sicurezza superiore perché quando viene effettuato questo controllo il traffico dati non è ancora arrivato fisicamente sul vostro computer. Diversamente dall'analisi dei singoli pacchetti dati, questo metodo si basa sul confronto dei dati con dei database, un po' come lavora un antivirus, e i dati vengono lasciati passare solo se i confronti con i dati del database non nascondono dei potenziali rischi. La differenza per capire meglio rispetto al packet filtering è che in quest'ultimo caso viene analizzato il contesto della comunicazione dati. Cioè non si guarda solo un piccolo pezzo di dati, ma il sistema si chiede anche da dove arriva? C'è già stato questo tipo di comunicazione e non ha fatto danni? E se come dire il contesto dice che non ci sono problemi, allora viene concesso il passaggio. Ci sono altri tipi di firewall, ma direi che forse per questo video ci fermiamo a queste tipologie che sono quelle più comuni per l'uso che facciamo noi dei computer. Nonostante abbia cercato di passare tutte le informazioni necessarie, potrebbe esserci ancora un po' di confusione sulla differenza tra un firewall e un antivirus. Anche perché in realtà alcuni comportamenti di un firewall si ritrovano anche in un antivirus, o il contrario. Il modo più semplice quindi per definire la differenza è il seguente. Un firewall agisce a livello di prevenzione, controllando il traffico di rete. Quindi non solo il tipo di dati che passano, ma anche, come detto, da dove arrivano, dove vanno, il modo in cui vengono trasferiti, e il modo in cui vogliono entrare sulla rete, o meglio, il modo in cui vogliono entrare sul computer. Un antivirus agisce dopo, cioè quando un software malevolo è riuscito a entrare nel computer, quindi è passato oltre il firewall e magari si sta attivando per cercare di fare danni. Ecco che lì interviene l'antivirus con lo scopo di bloccare il suo operato o si è già in atto di, chiaramente, rimuoverlo. Quanto appena detto, non dovrebbe far pensare che un virus riesce a entrare in un computer perché il firewall non è stato abbastanza efficiente o intelligente per bloccarlo. E infatti spesso e volentieri i malware finiscono sui nostri computer perché siamo noi a permetterlo e perché utilizzano delle vie di comunicazioni non sospette. L'esempio più semplice che mi viene a dire, un file infetto inserito come legato alle mail. Un firewall non blocca una mail che contiene un file dall'aspetto innocuo perché altrimenti dovrebbe bloccare tutte le mail. Un firewall blocca un tentativo di connessione al PC non autorizzato che arriva da altre parti del web. Ma se un file infetto arriva in mail o lo copiamo noi tramite una chiavetta o lo scarichiamo noi da un sito web allora ecco che in questo caso la palla passa all'antivirus. Firewall e antivirus sono due strumenti che devono lavorare insieme ed è infatti quello che accade. Windows ha integrato il suo firewall e il suo antivirus e se acquistate una suite di sicurezza di terze parti solitamente include sia un firewall sia un antivirus o meglio un software che agisce a entrambi i livelli senza che ci sia magari una distinzione marcata nella comunicazione. Amici fatemi sapere se questo argomento interessa se magari vogliamo vedere come mettere mano al firewall di Windows per fare una configurazione migliore che possa andare anche oltre le impostazioni di default. Lasciatemi un vostro commento qui sotto in descrizione e vi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Grazie a tutti!